benvenuti amici io sono pimpost oggi siamo su troll face quest horror 3 ho portato tantissimo tempo fa il primo e il secondo adesso siamo al 3 gioco demenzialissimo praticamente dobbiamo cercare di risolvere una serie di livelli tutti e inerenti loro quindi tutti inerenti persona ovviamente il primo e grandice guardate qui è grande precisico pure con crema dove cercare di capire come risolvere i livelli generalmente le cose troppo scontate sono quelle che ci portano a fallire il livello esattamente questo proprio quello che intendevo ricominci ma devo cercare di capire che cosa fare quindi sia quel col nonno la bastona praticamente abbia fallito quindi non è possibile che cosa colpisco colpisco gregni con gregni gantosa brutta gregni ma tra l'altro che ti hai fatto una lampada anticipo la mazza gregni tolgo il cappella nonno niente dobbiamo capirlo bene cliccando un po a caso forse riusciamo perché c'è pure la possibilità di tenere premuto infatti no vabbè ragazzi primo livello tenete premuto su gregni e succede qualcosa ecco no guarda quanto è brutta ma più dell'originale se un gioco è troppo demenziale troppo bello ok prossimi livelli forse allora che facciamo quando abbiamo messo a guardare la tv scaricare clicco la tv ovviamente fallirò come se non ci fosse un domani come se non ci fosse un domani ovviamente ricominci che faccio alzo la bambina tengo premuto sulla bambina no tengo premuto sulla tv non succede niente riclicco tolgo le mani si frega una bambina niente non è così allora c'è un fantasma qui clicchiamo un po a caso vediamo trasciniamo qualcosa stacco la corrente no prendo l'aspirapolvere no faccio qualche bimba alzati bimba falla qualcosa anziché fissare la tv come come non so che la spengo niente non faccio niente appena clicco la tv già appaiono le mani bimba alzati che fai bimba rimane l'impalata come una mumbia e ci credo che poi ti prendono alzati bimba tengo premuto sulla bimba niente e che faccio già sono bloccato al secondo livello tengo brutto sulle mani no bimba però se tu rimani qua è normale che che ti si frega usiamo un indizio vediamo se abbiamo cinque indizi che è quello capito che cato dovete far sciupare l'indizio così quindi che faccio adesso se l'indizio do cliccare sempre no vabbè c'è guardate questo gioco quanto infame quanto infame sto c'era quello nascosto alla tv wow dai insomma perché dovete farmi spiegare l'indizio così prossimo livello allora che facciamo qua ci tagliuzziamo a vicenda ti taglio ti taglio ti taglio ha tagliato mi sa che l'ha tagliato che faccio allora io gli metto la maschera che è successo che gli hai fatti i capelli gli ha fatti i capelli dovete agli capelli però si è vero forse allora siamo nel dentista è un po inquietante come un dentista tizio io non mi farei mai mettere le mani da te comunque più che un dentista mi sembra un torturatore questo allora che faccio titolo che non viene via i mordicchio la mano così imparano fammi capire io staccato è che fatti metto come quello nuovo come su denti sblink ma lo mangio provano sono messo io buono mi mancava un dente effettivamente grande così però si vede allora che facciamo qua infilzo il povero orsacchiotto la bomba la voodoo due e poi che faccio tengo premuto fallito fallito niente bimbo fai qualcosa tu perché quello ti infilza aspetta ti scippo la ossa dal naso niente tengo premuto tengo premuto sull'orsacchiotto faccio qualcosa su di lui che faccio ora se clicco mi dà nuovamente livello fallito tolgo lo spillone niente non riesco a fare niente tolgo il cappello niente infilzo e quello muore fallito meglio così dobbiamo fare quel tolgo che faccio tolgo la mano tolgo gli tolgo qualcosa a lui che fa tengo premuto su di su che cosa sullo sacchiotto non facciamo niente non facciamo niente di comincio tengo premuto solo su lui sul bambino e infatti ecco bravo bimbo così si fanno le cose non è successo niente quindi no vabbè no sta cosa è troppo bello prossimo livello forse stanza serie mi diverto un casino ragazzi è troppo bello dove stiamo andando alle hawaii sta cadendo l'aereo no non cade l'aereo mi sa che è caduto l'aereo più clicco più cade l'aereo è caduto l'aereo ricomincio che facciamo non clicco più ma tra l'altro sembrano delle lavatrici più che un aereo allora vediamo un po' che faccio niente lui si preoccupa clicco su di lui ma non succede niente tizio alzati 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 e infatti è una lavatrice no vabbè infatti sembravano delle lavatrici le mutande sono pelle che pulite te puoi prendere prossimo livello ovviamente forse vediamo che facciamo c'è una stecchetta qua sembra quella di animal crossing che fa no c'è il bagno lì aspetta clicco clicco il bagno strascino attenta è trovato il bagno a posto che fa è mancato non ci vede proprio capisco però l'avevi toccato di corriere dico la stessa fine di prima il bastoncino ti avvicino il bagno che faccio clicco scarico ti tolgo la benda ecco è perché tra lì così tanto che è successo livello completa l'importante è completare il livello andiamo al prossimo allora che c'è qua che fa mamma mia il laser ah è successo qualcosa di brutto mi hanno affettato come una banana niente ho fallito ovviamente 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 ricomincio allora ovviamente se clicco si accende il laser giusto non ci arrivo manco lì cammina tizia così no 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 che inquietante sta cosa se clicco su di lei ovviamente parte il laser quindi non facciamo niente zoom non succede niente se zoom parte il laser se no dopo che passa il laser posso fare qualcosa chi lo sa clicco su di lei la alzo e la porto io dall'altra parte non succede niente se abbia il laser mi trapassa premo qualcosa qui no apro la porta niente ho mai ammazzato tengo premuto sulla pistola la prendo niente gli alzo le braccia te se pulite le ascelle comunque le braccia non se le alza non fa niente impalata come una moglie accende il laser e muore e che ci posso fare crepa non è che è colpa mia usiamo l'indizio adesso usiamo l'indizio vediamo vediamo se lo devo utilizzare adesso però clicco qua quindi il laser lo devo accendere uso indizio un altro clicco su di lei e quindi la devo affettare e dopo un altro indizio è di nuovo la devo ricompere no mi hanno fatto sprecare tre indizi per sta stupidata ma dai ma dai devo ricliccarci per ricomporla ci dica perché non siete altri nella prossima non ho più indizi indizi gratis guardando il video giusto sì però con le sue disattivate quindi niente indizi allora eccoci qua nella mummia non cominciare così per favore ecco sforzi bravo hai fatto di tutto e di più a posto è finito ovviamente il livello fallito è chiaro è finita la cartigianica usa le bende allora se faccio così succede niente quindi devo fare effettivamente devo cliccare sulla mummia effettivamente poi se clicco la cartigianica è finita prendo le mie bende prendo le mie bende non le prende da queste parti ok mi sono strontolato io ok questo è stato facile forse questa era facile avanti andiamo al diecimo livello andiamo via forza dove siamo qua che si fa quello sono il pieno forte quello spaventato e adesso ti ammazzo avanzo su di te ti mangio ha dato una parolaccia ho fallito proprio direttamente allora gli avanzo devo fare qualcosa sicuramente con lui clicca clicca niente lo devo fermare allora aspetta clicco su di lui suona suona più veloce no niente che faccio allora provo a clicco direttamente su di lui ok gli ho rotto il pianoforte proprio cliccando ripetutamente sul pianoforte adesso voglio vedere che fa clicco sempre sulla mummia aspetta aspetta che mi è ci è arrivato lo stesso però non c'è niente non gli faccio paura non gli fa paura mi hanno fatto amicizia proprio vediamo quanti livelli sono siamo al dieci devo fare l'undici sono in totale 16 livelli così poco andiamo all'undici forza allora mi faccio un selfie con le piramidi però adesso vediamo quello che succede tolgo le piramidi così impari niente tolgo le piramidi niente quello continua a farsi i selfie fallito grande così di scippo il telefono posso alzare la piramide tengo premuto zoom niente gli scippo il telefono gli do niente non succede niente clicco sui lati sui lati succede niente le nuvole indizi gratis e non la posso prendere che è quello di silent il no vabbè ammazza così impara a farsi i selfie sono facci di capo ecco come faccio il selfie adesso ok prossimo livello forza andiamo spediti come un missile che è che c'è sotto il letto non mi fate spaventare non mi fare spaventare fai qualcosa ti non esiste più se clicca prendigli la zampa prendiglia ecco bravo siete tutti che scorreggiato in questo gioco però è ancora non è soddisfatto tengo premuto lo faccio dopo allora io adesso adesso bimbo veloce l'hai fatta tutta e lo so ti sei svuotato lo stomaco non è che posso farci qualcosa fino a quando devo stare così faccio il doppio click ok sei morto grande così prossimo livello forza andiamo al 13 che fai tu keep calm e ammazzalo un porcellino qua sei venuto che ti ha ridacchi perché non so che fare puoi ridere fino a domani l'ha ammazzato comunque ti scippola ascia così ti passa la voglia di ammazzare la gente ti clicco ti scippola la rompio la rompio la rompio la rompio niente ricomincio ti prendo la mano te la alzo ti prendo l'ascia non succede niente ti scippi buco gli occhi ti buco niente ti prendo a testate niente fammi vedere chi hai qua sotto striscio da questa parte niente lui parte con l'ascia che sto combinando ti prendo sbattitela in faccia stascia così impari a ridacchiattala ti prendo il naso ti scippo il naso niente non succede niente ok quando lui riderà due volte potuto trascinare sembrava che stessi ammazzando invece un tronco a quanto si esce che di nuovo perché ho fallito perché ho fallito trascino no aspetta no mi sembra in giro mi sta prendendo ride due volte io zoom non zoma più no mi prendete in giro per favore allora al contrario ok al contrario devo zoom e poi che faccio uccide lo stesso il tronco fallimito ha fallito perché allora zoomiamo al contrario però ok alzo il tronco tengo premuto sul tronco e facciamo qualcosa con sto tronco per favore apriamo la porta allora ah ecco ecco voglio vedere che fai adesso sono arrivato per te adesso ti ammazzo io l'ho completato ok prossimo livello 14 forse che stai facendo un bagnetto attenzione perché non me lo farei mai in quella vasca tutta verde niente puoi sforzare fino a dopo domani perché non ho capito che dobbiamo fare ecco ecco fulmine attiva è finita la corretta apposto sono morto proprio allora mettiamo che faccio qua chiudo la tavoloccia chiudo niente faccio cadere subito la vada così la finiamo subito niente quello fallito allora lo faccio cadere forse devo fare qualcosa dopo no perché mi dà un attimo di tregua quando cade la lampada lì quella cosa lì niente però non posso fare niente spengo le luci niente e tu puoi ti scippo il libro va e continuiamo così voglio vedere quante ne hai ancora intanto le fa tre ore che hai mangiato 8 kg di fagioli allora io scippo qua tengo premuto qua lo butto proprio e quindi e adesso sia proprio l'hai lasciata l'hai mollata proprio definitivamente quindicesimo livello che siete tutte brutti tutti con le facce di capra non la capra non c'è tutti con delle facciano è morto qualcuno è morto il gatto stanno facendo il funerale al gatto gattino svegliati che siamo tutti con te che faccio tutti di te qualcosa mentato il gatto è morto tengo premuto niente trascino trascino qualcosa che trascino trascino niente qua io butta sto fiorellino questo che devo buttare devo tenere premuto sulla giraffa qua ma è troppo demontare il suo gioco ragazzi l'ho sempre detto ok possiamo vedere l'ultimo questo è l'ultimo di nuovo con la tv assista tv di prima sembra questo che facciamo attiviamo qua facciamo zapping questo non mi piace hit questo non mi piace non abbiamo fallito non c'è più niente di tv meglio questo allora che faccio qualcosa devo cliccare nel pagliaccio tengo premuto sul pagliaccio lo faccio uscire dalla tv clicco in continuazione sul pagliaccio niente riclicco fallito trascino la tv la alzo la doccia il telefono ok devo cliccare subito sul telefono pronta tra sette giorni ti ucciderò fallito comunque e perchè alzo non rispondo allora lo faccio suonare e faccio zapping nel frattempo no allora forse prima devo fare qualcosa no forse devo far suonare il telefono quando c'è qualcosa alla tv possibile? no o lo lascio suonare in continuazione nel frattempo che faccio però nel frattempo rispondo butta la cornetta butta ecco bravo urlagli contro e continuiamo a fare zapping noi che cos'è sta cosa? ma che cosa è? completato livello segreto guarda la pubblicità e guardiamola ok livello segreto un predatore no non mi spara no non lo fare non lo fare l'ha fatto l'ha fatto già sono morto livello fallito che faccio? mi tolgo il casco sali dacchio ovviamente livello fallito qualcosa devo fare tengo premuto su di lui avanti sfarzaneghi è qua fai qualcosa che faccio? niente devo cliccare forse su di lui lo arma devo fare qualcosa e poi si rialzà si rialzà ecco bravo fagli vedere chi sei sciutta eh no vero sfarzaneghi terminator l'abbia ammazzato non puoi ritacchiare più t'ho fatto saltare la testolina adesso magari dacchio io ok gioco completato ragazzi anche il terzo l'abbiamo finito non vedo da questo punto che esca il quarto gioco veramente fighissimo quindi ovviamente lasciate un bel like ricorda che potete seguirmi con la pagina facebook con tutti gli altri social di cui trovate il link in descrizione iscrivetevi al canale e perciò è tutto al prossimo video oggi torniamo su granny capitolo 2 è stato aggiornato mi avete chiesto in tanti di riportarlo perché appunto è stato aggiornato ed è stata inserita la modalità nightmare no dico io c'è cambia però la musica nelle opzioni